Musica Cari amici di Antenna Sud, bentrovati al consueto appuntamento con le previsioni meteo di tempo al tempo. Vediamo qual è la situazione generale prevista per la giornata della vigilia di Natale, sabato 24 dicembre. L'alta pressione rinnova una giornata parzialmente soleggiata anche se verso sera l'ennesimo fronte si avvicinerà da nord, determinando un nuovo peggioramento con piogge e rovesci in estensione notturna. Neve sin verso i 1100-1300 metri. Ed ora più nel dettaglio, vediamo cosa accade in Puglia. In Puglia, al mattino, tempo prevalentemente soleggiato con nubi sparse sulle coste e poche nubi in pianura. Ancora poche nubi al pomeriggio, alternate a schierite in pianura. Ed ora spazio alle previsioni anche per la Basilicata ed il Molise. In Basilicata, sulle coste, bel tempo con cieli sereni. In montagna, soleggiato ma con nubi sparse. In Molise, al mattino, soleggiato con poche nubi che si intensificheranno nel pomeriggio. Infine la situazione prevista per temperature, venti e mari. Temperature in rialzo, specie nei valori massimi e lungo il basso versante adriatico. Venti moderati nord-occidentali in attenuazione tendenti ad assumere una rotazione ciclonica attorno al minimo, mari tendenti a mossi. E per ora è tutto con le nostre previsioni. Vi ringrazio per essere stati con noi e vi lascio in compagnia dei programmi di Antenna Sud. Arrivederci e buon proseguimento. Grazie a tutti.